Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo come al solito che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di una famiglia che all'apparenza sembra perfetta. Oggi parliamo del caso di William Hudnall e della sua famiglia. Ma come è composta la sua famiglia? Ebbene, c'è William, Stephanie, sua moglie e i loro tre figli, Joshua, Gwen e infine Ruby Grace. William non è spesso a casa quando Joshua è piccolo, perché è sempre a lavoro. L'uomo lavora sulle navi militari, quindi a casa ci sono solo sua madre Stephanie e le sue due sorelle, Gwen e Ruby Grace. La priorità di Stephanie è sempre stata se stessa. Dall'esterno sembra una madre amorevole, premurosa, invece nel privato è bravissima a comandare i suoi figli a bacchetta. Si nasconde dietro l'apparenza di donna casa e chiesa. Ormai Stephanie è bravissima a interpretare quel ruolo, che però, ahimè, non corrisponde alla realtà. Joshua non immagina lontanamente fino a che punto sua madre si sarebbe spinta per raggiungere i suoi scopi. Il rapporto tra Joshua e sua madre è sempre stato piuttosto freddo e distaccato. Un giorno, quando il ragazzino è già grandicello, Stephanie gli chiede di andare in un negozio di alimentari lì vicino, per prendere del pane, del latte e delle uova. Per uscire Joshua al posto della sua bicicletta, prende uno dei due monopattini delle sue sorelle. Il punto è che Joshua non è abituato ad usarlo, il monopattino. E, infatti, alla prima curva cade, si fa male e quindi corre a casa. Stephanie guarda il sangue scorrere dal ginocchio di suo figlio. E, insomma, quella è anche una ferita abbastanza importante. Joshua sta sanguinando molto. Ma la verità è che lei non frega una beata fava, anzi, Stephanie rimprovera Joshua perché è tornato a casa a mani vuote. Non ha preso né le uova, né il latte, né il pane. Stephanie chiede quindi a Joshua esattamente cosa sia successo. Joshua le spiega che è caduto dal monopattino. E la donna risponde, ah ok, sai dove sono i cerotti, vero? Vai e disinfettati che altrimenti mi macchi tutta la casa di sangue. È chiaro, Stephanie si occupa molto meno di Joshua e molto di più delle sue sorelle. Il ragazzo infatti dice che non ha mai avuto con lei un vero e proprio legame affettivo. E se c'è stato, lui non se lo ricorda, ero troppo piccolo. Poi arriva un giorno in cui Joshua si rende conto che sua madre e le sue sorelle stanno inscatolando tutti gli oggetti presenti in casa. Questo vuol dire che stanno traslocando. E, ahimè, la famiglia non è nuova ai traslochi. Infatti, i continui traslochi sono iniziati quando Joshua aveva circa nove anni. La famiglia non si ferma mai a lungo in un unico posto. Mai. Stephanie non spiega mai ai suoi figli perché debbano trasferirsi così spesso. Semplicemente un giorno si sveglia e chiede a tutti di riempire gli scatoloni, nient'altro. Alla domanda, perché traslochiamo, non capisco. Stephanie risponde, perché sì, è così e basta, decido io. La famiglia si sposta da New Orleans a Anselton, in Pennsylvania. Poi si trasferiscono di nuovo a Virginia Beach. E, infine, si trasferiscono in Florida. Insomma, generalmente, dopo al massimo sei mesi, Stephanie raccoglie baracca, burattini, figli e se ne va. E se ne va anche lontana. Si trasferisce in posti lontani l'uno dall'altro. La domanda che dovremmo porci è, perché Stephanie si sposta così di frequente? Insomma, lo sappiamo tutti, un trasloco, di certo, non è una passeggiata. Per di più i suoi figli non riescono mai a trovare un posto in cui mettere radici. Non riescono a trovare amici, o meglio, non vogliono trovare amici. Perché tanto lo sanno che sarebbero ripartiti dopo pochi mesi. Massimo sei mesi. Quindi, perché cercare di farsi nuovi amici in continuazione, se poi devono puntualmente dirgli addio? In realtà, la famiglia si sposta spesso proprio a causa di Stephanie. Infatti è solito spendere tutti i soldi che ha in tasca fino all'ultimo centesimo per comprare stupidaggini. La casa è piena di stupidaggini e cianfrusaglie, ma i soldi non bastano mai. Come è ovvio che sia, Stephanie, spendendo i soldi incavolate, non paga più le bollette. Quindi, quando giunge il recupero crediti, oppure la società elettrica l'avvisa che stanno per interrompere la fornitura, o ancora il padrone di casa bussa alla porta, loro se ne vanno. Le spese incontinibili di Stephanie sono una continua fonte di discussione in casa tra lei e William. Quest'ultimo però sopporta tutto perché vuole mantenere pace in famiglia. Ovviamente ad ogni trasloco la tensione tra Stephanie e William, i genitori di Joshua, aumenta. I due non litigano mai davanti ai figli, bensì attendono che vadano a dormire. Poi, ecco che iniziano le urla, che vanno anche avanti per ore. Tutto gira sempre attorno ai soldi. William cerca di spiegare più volte a Stephanie come si mantenga una casa e una famiglia. Ossia, prima paghi le bollette e il cibo, poi viene tutto il resto. William a questo punto prende una decisione. Non dà più a Stephanie tanti soldi. Le dà la cifra giusta per occuparsi della spesa e delle bollette. E a questo punto Stephanie decide di vendicarsi e di farla pagare a William. Infatti, pochi giorni dopo, Joshua è a scuola. Stephanie lo va a prendere. E con lei ci sono anche le sue sorelle, Gwen e Grace. Stephanie ordina a Joshua di salire in macchina. Poi si mettono in viaggio. Vanno a Green Cove Springs e si firmano davanti ad un grosso cancello. Joshua non capisce perché siano lì. Fa delle domande a sua madre. Domande a cui sua madre non dà risposta. Una volta che la famiglia entra, un'impiegata da retta a Stephanie. Mentre Joshua va a parlare con un'altra impiegata. Quest'ultima gli chiede se sa perché è in quella struttura. Ma Joshua risponde che non sa neanche dove sia esattamente. Così scopre di essere in un centro per donne maltrattate. L'impiegata infatti chiede a Joshua. Hai mai visto tuo padre picchiare tua mamma? Joshua ribatte. No, mai. Ed è pure sincero. L'impiegata però riprende Joshua e gli chiede. Ma le digano spesso, giusto? Joshua risponde. Beh, sì, credo di sì. Ma se questo è un centro antiviolenza, noi non abbiamo motivo di essere qui. Insomma, mio padre non farebbe del male a una mosca, davvero? L'impiegata guarda Joshua e gli risponde. Ma tua madre non la pensa affatto così. Senti, stai qui, rilassati. Poi magari dopo ne riparliamo. Joshua non ha modo di mettersi in contatto con suo padre. Perché in quel momento è in Mississippi. Di conseguenza deve rassegnarsi. Stephanie e i suoi figli stanno in quel centro antiviolenza per tre settimane. Poi tornano a casa e sembra che tutto va da meraviglia. Andare al rifugio è stata una tattica astuta di Stephanie che ha distolto la realtà per ottenere più soldi dal marito. William quindi cede alle richieste della donna. Deve per forza darle più soldi. Ovviamente man mano che Joshua cresce, il rapporto tra i suoi genitori inizia a deteriorarsi. Stephanie non cambia mai le sue abitudini. Continua a sperperare tutti i soldi. Lei e le sue figlie ogni volta che escono riescono a spendere anche 700 dollari alla volta. In casa ci sono montagne di cose inutili come vestiti, piatti decorati, tazze, tazzine, tazzerelle, piatti, piattini. I soldi però mancano sempre. A questo punto William decide di prendere il controllo delle spese in casa. Da questo momento dà a Stephanie i soldi necessari solo per comprare da mangiare. Le prende anche le carte di credito. Poi però una sera dopo cena succede qualcosa. Joshua è in camera sua a giocare al computer. Quando sente suo padre alzarsi dal divano, correre in bagno per poi emettere dei suoni molto simili a dei conati di vomito. Joshua apre la porta della stanza e in effetti vede in bagno suo padre che sta vomitando l'anima. Chiede quindi ma che sta succedendo qui? Sua madre prontamente risponde. Non preoccuparti tesoro, tuo padre ha solo dei problemi di stomaco. Joshua a questo punto non pensa a nulla di male. Anche lui qualche settimana prima è stato male di stomaco. Insomma quello è un virus che solitamente passa in un giorno. Ma William quella sera dopo cena rimane in bagno per tre ore buone. E passa ulteriori tre giorni perennemente abbracciato al water a vomitare questo pover uomo. Ovviamente non può andare a lavoro. E tra l'altro in quei pochi giorni perde circa sette chili. È tantissimo, vuol dire che quell'uomo è stato malissimo. Questa è una delle prime volte in cui Stephanie tenta di avvelenare suo marito. Joshua ovviamente non ha delle prove concrete ma i vaghi sospetti ci sono eccome. Dopo questo primo fallimento però Stephanie non rinuncia mica per seguire il suo obiettivo. Infatti un giorno Joshua si sveglia e trova a casa suo padre William. L'uomo ha deciso di prendere una settimana di ferie. William che è in camera da letto dunque chiede a Joshua si può andargli a prendere un taglierino. Il ragazzo va immediatamente a prenderlo per poi portarglielo. Entra quindi in camera e nota una bruciatura sulla moquette. Stephanie aveva detto a William che aveva acceso una delle sue candele profumate. Voleva metterla sul comò ma l'era scivolata dalle mani cadendo a terra. In questo caso Joshua si chiede se suo padre si sia reso conto di cosa Stephanie avesse cercato di fare. Dopo questo episodio infatti Joshua scopre che Stephanie ha detto a un'amica di famiglia che quella sera mentre William dormiva aveva cercato di dar fuoco alle lenzuola. William però aveva fatto un rumore. Probabilmente aveva iniziato a rossare. Stephanie si era spaventata e quindi aveva fatto cadere la candela sulla moquette. Se ci fosse riuscita e William non avesse fatto quel rumore sarebbe morto avvolto dalle fiamme e anche la casa sarebbe andata in fumo. A questo punto Stephanie cerca di fomentare in vano Joshua contro suo padre. Verso i 18 anni quando la sua indipendenza aumenta di giorno in giorno Stephanie reagisce cercando di controllarlo ancora di più. Una mattina mentre Joshua sta facendo colazione Stephanie gli piazza sotto il naso un foglio rosa. Quella è un'ingiunzione restrittiva contro William. Il punto è che quest'ultimo è sempre fuori per lavoro quindi non riescono a vedersi molto spesso. Joshua guarda quel foglio poi guarda sua madre e le dice No io non firmo proprio nulla scordatelo. Stephanie ribatte Sì invece tu devi firmare perché io sono tua madre. Joshua ribatte sicuro No davvero ti prego vattene non voglio neanche starti a sentire. Mi sono spiegato. Stephanie cerca a lungo di mettere tutti i figli contro il padre ossia suo marito perché effettivamente l'uomo non è mai a casa. C'è un fatto però Joshua ha un rapporto speciale con suo padre. Anzi è l'unico migliore amico che ha da quando è venuto al mondo e non vuole perderlo. Joshua sa benissimo che se si schierasse con Stephanie lo perderebbe irrimediabilmente. Stephanie a questo punto urla in faccia a Joshua Farai tutto quello che ti ordino finché vivrai sotto questo tetto e adesso firma questo foglio. Joshua non cede ma cerca di allontanarsi. E Stephanie a questo punto gli si scaglia contro urlando Firma! Firma questo foglio! Firma questo dannato documento! E' ovvio che Joshua inizia sempre di più a ragionare con la sua testa. Sta crescendo quindi Stephanie fa tutto il possibile per tenerlo dalla sua parte. Il punto è che non funziona più. Almeno non funziona con Joshua. Il ragazzo per sfuggire da sua madre esce. E inoltre Stephanie non può assolutamente controllare i suoi pensieri. Qualche ora più tardi Joshua entra in cucina per bere un bicchiere d'acqua. Stephanie sta tagliando una mela e appena vede il ragazzo entrare in cucina afferra un coltello e si avvicina per minacciarlo. La donna non si è mai spinta così oltre. Joshua quindi scappa immediatamente in camera sua e blocca la sua porta con una cassettiera. A questo punto sa che Stephanie potrebbe ucciderlo. Quindi fa un borsone velocemente e se ne va scappando dalla finestra. Joshua sa che è giunto il momento di andarsene di casa se vuole salvarsi. Riesce a cavarsela per un paio di notti dormendo da qualche amico. Insomma sa che suo padre sarebbe tornato a casa entro un paio di giorni. E col suo rientro tutto sarebbe tornato a posto. Quando William torna a casa Joshua lo prende da parte e gli spiega cosa sia accaduto. William chiede al suo figlio se per caso è intenzionato a denunciare Stephanie. Ma Joshua risponde ma no papà non servirebbe a niente la sua parola contro la mia. Alla fine i due concludono che non possono fare nulla. E il ragazzo a questo punto capisce davvero che l'unico modo che ha per salvarsi è andarsene di casa. Così entra nell'esercito. A Joshua piace stare nell'esercito. Sostiene che il periodo che ha passato in Iraq è stato il momento più bello e spensierato di tutta la sua vita. La sua base tra l'altro è una di quelle più colpite. Le bombe esplodono ovunque c'è sempre qualcuno che vuole ucciderli. Ma nonostante tutto nonostante la follia e il caos per Joshua è mille volte meglio della casa in cui è cresciuto. Il ragazzo a questo punto spera di essersi liberato di Stephanie una volta per tutte. Però durante tutto il primo anno dell'esercito ogni giorno di paga Stephanie si fa risentire. Comincia con le solite smancerie e poi chiede a Joshua dei soldi. Joshua ogni mese risponde Stephanie no non ti mando niente basta. La donna tenta di blandirlo. Gli dice che gli vuole bene. Ma Joshua sa perfettamente di che pasta sia fatta a sua madre. Non si fa mettere i piedi in testa e si rifiuta di dare ulteriori soldi. Quando ha avuto sotto gli occhi per anni la prova del fatto che non sia in grado di gestirgli a dovere. Insomma se le avesse mandato dei soldi sua madre avrebbe speso ogni singolo centesimo per comprare delle cavolate per lei o per le sue figlie. Insomma non avrebbe speso quei soldi per sistemare la casa o fare qualche lavoro in casa. Infatti ormai è William suo marito che si occupa di pagare le bollette. Stephanie a questo punto ha i soldi giusti per andare a fare la spesa una volta a settimana. E non può più permettersi di fare acquisti folli perché altrimenti anche lei sarebbe rimasta senza cibo così come le sue figlie. Passa un altro po' di tempo e il messaggio successivo che Joshua riceve da casa è agghiacciante. Questi giorno si trova alla base. Hanno un wifi che ricopre tutte le postazioni di lavoro. E viene contattato da suo cugino il quale gli dice che deve chiamare a casa perché c'è stato un lutto. Sia gli zii che i nonni di Joshua hanno problemi di salute. Quindi Joshua immagina che sia venuto a mancare uno di loro. Poi chiama suo zio che non è assolutamente deceduto perché risponde al telefono. E gli dice Sei seduto? Dovresti sederti perché devo darti una notizia davvero spiacevole. È vero c'è stato un lutto in famiglia. Tuo padre è morto. Joshua non riesce a crederci. E a questo punto ricontatta suo cugino. Il quale lo informa che la polizia sta seguendo la pista dell'omicidio. Insomma pensano si tratti di omicidio. L'arma del delitto è un piccone. E da quello che hanno trovato in casa sembra una rapina finita male. Joshua a questo punto deve tornare a casa. E mentre in viaggio scopre una notizia ancora peggiore. Ogni volta che si fa una missione all'estero di solito si fa scalo in Kuei. E quando arriva in caserma Joshua si precipita nella sala computer. Col fine di andare sui social. Appena si connette la prima cosa che legge è la storia aggiornata di suo padre. La donna che l'ha ucciso è sua moglie Stephanie ed è già stata arrestata per l'omicidio. Ma lo shock più grande deve ancora arrivare perché Stephanie non ha agito da sola. Stephanie è stata aiutata da sua figlia Gwen. Quella donna ha costretto o convinto in qualche modo sua figlia ad uccidere suo padre. Quando Joshua torna a casa scopre i dettagli del crimine che sua madre e sua sorella hanno compiuto. Quando Gwen e Stephanie avevano ucciso William Gwen aveva preso il suo piccone. Era andata in camera sua e lo aveva colpito per cinque volte alla testa e al torace mentre dormiva. Il rapporto tra William e sua moglie si era inasprito. E la coppia in effetti si era allontanata soprattutto negli ultimi due mesi prima della morte di William. William viveva ormai da sola a New Turn in Florida. Mentre Stephanie e le sue due figlie ossia Gwen e Ruby Grace vivevano in una casa mobile a Kingston Hates al momento della sua morte. La polizia durante le indagini non è mai riuscita a dimostrare che Stephanie fosse nella stanza quando Gwen ha alzato il piccone. Ma Joshua è convinto che Stephanie era sicuramente nella stanza quando Gwen ha alzato il piccone. Perché secondo lui Gwen non sarebbe mai riuscito a colpire suo padre senza la presenza di Stephanie in quella stanza. Probabilmente Stephanie stava pianificando l'omicidio di William da molto, molto tempo. Probabilmente da anni. E inizialmente il suo piano era quello di convincere Joshua ad uccidere William. In modo che l'unico ad essere incriminato sarebbe stato lui. Quando però si è ribellato e se ne è andato di casa, Stephanie ha capito che non poteva plagiare Joshua fino a convincerlo a commettere quel terribile crimine. Quindi ha iniziato a fare il lavaggio del cervello a Gwen. Di soli 19 anni. Le due donne hanno commesso l'omicidio mercoledì 8 giugno 2011. Quindi hanno commesso l'omicidio, sono tornate a casa loro per poi ritornare il giorno dopo a casa di William fingendo di averlo trovato morto. Gwen e Stephanie avevano messo la casa su quadro facendo pensare che si trattava di una rapina finita male. Il motivo per cui sono state scoperte è perché la porta d'ingresso non era stata forzata. Non c'erano segni di effrazione. Durante il processo madre e figlia si puntano al dito contro la vicenda. Gwen dice che sua madre era nella stanza mentre colpiva suo padre. A dirla tutta era stata sua madre a convincerla a colpire suo padre. Dall'altro lato Stephanie sostiene che non era assolutamente presente in quella camera. Le due donne sono entrambe giudicati colpievoli di omicidio di secondo grado e cospirazione per commettere un omicidio. Entrambe vengono condannate a 40 anni di carcere. Poco tempo dopo Joshua decide di far visita a Stephanie in carcere. Il ragazzo ci va perché vuole ottenere delle risposte che nessun altro può dargli. Neanche l'avvocato della donna sa rispondere alle sue domande. La visita tra Joshua e sua madre è alquanto breve e dura circa 45 minuti. Il ragazzo le dice chiaramente guarda io sono qui per un solo motivo. Voglio sapere perché. Perché avete ucciso papà? Stephanie risponde che è tutta colpa sua perché lui non le aveva mandato i soldi che lei continuava a chiedergli. Stephanie dice esattamente queste parole. Tutto questo non sarebbe successo se mi avessi mandato dei soldi. Ma cosa ti aspettavi? A questo punto Joshua inizia a innervosirsi parecchio e ci credo e quindi se ne va. Mollando Stephanie lì a parlare da sola. Joshua successivamente va a fare visita anche a Gwen. La ragazza appena lo vede scoppia a piangere e per tutto il tempo non fa nient'altro che ripetere. Mi dispiace, mi dispiace così tanto, mi dispiace, mi dispiace. Joshua non riesce a ricevere neanche da lei una valida motivazione per ciò che ha fatto. Negli anni Gwen ogni tanto manda delle lettere a Joshua. Ma il vero motivo per cui ha ucciso il suo stesso padre non l'ha mai confessato. Joshua però non sa che sua sorella le sue motivazioni le ha rivelate proprio durante il suo interrogatorio. Gwen dice alla polizia queste esatte parole. Stavamo perdendo tutto, tutto. Non avevamo niente. Lui aveva un sacco di soldi. Aveva 6.000 dollari. Lo sa quanto ci dava a noi invece? 400 dollari. Stavano per staccarci la corrente. L'assicurazione della macchina era scaduta. Lui avrebbe dovuto provvedere a noi. Non avevo scelta. Dovevo farlo. La verità però è ben distante da ciò che dice Gwen. William non ha mai avuto da parte 6.000 dollari e peraltro dava a Stephanie la maggior parte di ciò che guadagnava. Per 7 ne va solo il necessario per pagare le bollette e mangiare. Ma la cosa più assurda è che Stephanie e Gwen hanno colpito William perché erano convinte che avesse una polizia assicurativa sulla vita. Cosa che l'uomo non ha mai avuto. Stephanie attualmente è incarcerata presso il Lowell Correctional Institution di Ocala in Florida. Mentre Gwen sta scontando la sua pena all'Homstead Correctional Institution di Florida City. Dopo questa condanna Joshua ovviamente prova ad andare avanti ma continua a tormentarsi con mille domande. E se fosse stato lì? E se avesse visto qualcosa? Se avesse prestato più attenzione? Se avesse fatto di più per far uscire di casa anche le sue sorelle Grace e Gwen? Joshua peraltro sa di avere un disturbo da stress post-traumatico. E sa benissimo che non è stato causato dall'esercito. Bensì questa tragedia legata a tutti i traumi che ha vissuto da piccolo hanno contribuito a farglielo venire. Joshua purtroppo muore il 14 agosto del 2018 a causa di un'insufficienza epatica. Aveva solo 27 anni. A mio avviso questo caso è davvero orribile. William era un'anima davvero pura. Non credeva che Stephanie volesse fargli del male. Infatti Joshua ha detto che suo padre non credeva che sua moglie avesse provato ad avvelenarlo. E neanche che avesse cercato di dar fuoco a lui e alla casa. Credo che Gwen in effetti sia stata manipolata da sua madre Stephanie. Ma se è disposta ad uccidere a mio avviso sta bene dove sta, ossia in prigione. Stephanie invece secondo me doveva ricevere una pena più dura. Ma non è stato dimostrato che fosse nella stanza con sua figlia nel momento del delitto. Motivo per cui non ha ricevuto una condanna più severa. Detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video. Spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro interesse. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso. Lo conoscevate? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Detto questo io vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi. Mangiate le verdure che continuano a far bene. Ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Ciao ragazzi. Ciao ragazze. Ciao ragazzi.